Ciao! Oggi vorrei parlarti di questo. Allora, per mettersi in connessione con gli angeli, quello che ti suggerisco è proprio di trovare un luogo dentro di te e magari anche fuori di te, dove tu possa sentire spazio e silenzio. Questo ti permette proprio di entrare in connessione con una tranquillità che ti permette di essere in contatto con quelle parti di te che normalmente non ascolti, perché magari nella vita frenetica non ti permetti proprio di avere quei momenti di silenzio, di pace, dove sei in ascolto di te stesso ed è quindi più facile entrare in connessione anche con queste entità spirituali meravigliose. Quindi ti suggerisco di trovare del tempo nella tua vita da dedicare a questo, al silenzio e all'ascolto. Quando sei nel silenzio e nell'ascolto, magari ti sarà anche più semplice entrare in connessione con gli angeli, chiamandoli e ascoltandoli. Li sentirai nel tuo cuore e magari attorno a te. Ciao, un abbraccio!